Malfatti, Malfatti Luca, ciclistica, Olgiatese, davanti, inseguito da piazza, piazza Leonardo, che però passa, passa a piazza Leonardo, poi c'è ancora De Maio, De Maio, Fabrizio, vorrebbe una volta in terza, Caravaggio in prima, e abbiamo sempre piazza Leonardo, Malfatti Luca e ancora Fabrizio, De Maio. Intanto si preparano gli apri in pista per la loro finale.